Ciao ragazzi, ciao benvenuti in Pandino Club Real Allora, siccome che vedo che i prodotti del gas, il gas è una leggenda Il gas è la leggenda dell'auto Allora, Opel è un fenomeno Allora, Opel Astra, Opel C2000 Turbo Non è questa, questa è la copertina del video Abbiate pazienza, hai capito? La tengo come copertina A chiappa like Allora, 199 cavalli, dopo ve la faccio vedere 2000 Turbo, non è stata facile trovarla Non è stata facile trovarla 4900 euro, è la versione Station Wagon La versione Station, vedete? Voilà, l'ho beccata, l'ho beccata su Autoscout In Germania, effettivamente, in Italia non si trova Io ho dei dubbi o chi fosse stata importata in Italia Comunque Station, comunque è una macchina rara innanzitutto Di OPC in Germania se ne sono una marea Il problema è il sale, la ruggine E quindi ha ragione il gas Non comprate l'auto in Germania Comunque questa qui è a 160.000 km Un 2004, 2000, non è questa 2000 Turbo benzina E' analoga, stesso colore Sottoscocca, frenata lunga Lavori complicati Hanno il suo prezzo Sostituzione vasca acqua Bobine, bullone Bullone Sono fuoriusciti dalle sedi Tutto ferro alluminio Ossidato Supporti fusibili Pinza Pinza bulloni Perita di olio Telaio marzo Ha un sacco di problemi alla marmitta Fusello marzo Ponte Bisogna farla tornare a nuovo Le gomme sono diverse Nei due assali 4.900 Ti faccio vedere anche questa Che ho trovato su Autoscout E' la versione coupé E viene 4.900 euro